Melbourne Phoenix, Genova International School of Soccer, affiliated with AS Roma in Italy, bring you the first AS Roma campus at the Trigoria Sporting Complex, home of AS Roma. Ciao, sono Bruno Conti, un saluto a tutti i ragazzi di Melbourne Phoenix. Vi aspettiamo a Roma e so che avete vicino delle persone serie e competenti. Abbiamo esaurato questo rapporto molto importante per cui ci sarà anche questo scambio a livello carcistico e noi saremo lieti di ospitarvi qui come divenire quando abbiamo la possibilità a trovarvi. Una fraccia a tutti e buon divertimento. The path from this to this begins at the AS Roma campus. Enroll online at www.issgenova.com Salute a tutti i ragazzi di Melbourne Phoenix. Ci vediamo presto a Trigoria e ci spettiamo qua. Ciao. 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 Grazie.